Oltre 31 milioni di euro è questo il totale delle richieste alla Governo nazionale per far fronte ai danni causati dall'alluvione che lo scorso luglio aveva colpito anche il territorio provinciale aretino. Di questi 2 milioni sono necessari al superamento dell'emergenza e i primi e più necessari interventi per i quali la Regione ha già stanziato e utilizzato 550 mila euro. Altri 2 milioni invece serviranno per gli interventi relativi e contributi di immediato sostegno alla popolazione e alla ripresa delle attività economiche e produttive. La feta più consistente però è quella relativa alle risorse necessarie per la riduzione del rischio residuo nelle aree maggiormente colpite dall'alluvione. Noi abbiamo fatto un elenco di 21 opere, 21 progetti che sono già in stato avanzato di progettazione preliminare da parte del Genio Civile, concordati con i comuni e concordati anche con il Consorzio Idraulico su tutti i vari torrenti, fiumiciattoli e corsi d'acqua e persino rii, che vogliamo far partire, i cui lavori vogliamo far partire, la cui realizzazione di questi progetti vogliamo far partire nel corso di quest'anno utilizzando le accelerazioni consentite dal commissariamento che il Governo ha conferito al Presidente della Regione Toscana. Il valore complessivo è intorno a 28 milioni e ci auguriamo che il Governo voglia coprirli tutti. Qualora questo non dovesse avvenire, noi ci dichiariamo disponibili come Regione Toscana a fare la nostra parte. Tra le 21 opere individuate, le casse di espansione sui torrenti Valtina e Sellina, il consolidamento degli argini del torrente Castro-Bicchieraia e la sistemazione idraulica del torrente Vingone. Adesso la parola passa al Governo che dovrebbe dare una risposta entro un mese. Il risultato finale di questo intervento è che, qualora dovessero verificarsi eventi meteorologici analoghi a quelli del 27 e del 28 di luglio dello scorso anno, il rischio idraulico in queste zone, in queste aree è praticamente eliminato.